ciao a tutti nell'esercizio di oggi metteremo ancora in pratica quello che abbiamo imparato sulle maschere e per la precisione applicheremo le maschere di livello questa volta e quindi innanzitutto vediamo che cosa dobbiamo realizzare benissimo come avete visto si tratta di un esercizio molto breve questa volta e quindi non lo divideremo in più parti come facciamo di solito ma lo finiremo oggi rivediamolo lentamente allora abbiamo una fotografia che viene coperta da un rettangolo colorato e poi abbiamo la stessa fotografia in bianco e nero ritagliata con una scritta molto grande la quale scritta poi si rimpicciolisce e diventa nera a quel punto viene coperta da un rettangolo nero e all'interno di quel rettangolo nero abbiamo una copia della scritta bianca e per finire abbiamo un rettangolo bianco con all'interno una scritta nera che si vede solo lì dove esiste il rettangolo bianco e come vedrete tutte queste animazioni le otterremo attraverso le maschere di livello bene quindi direi di cominciare innanzitutto come al solito le cose che utilizzo in questo esercizio le potete scaricare dai link che vi lascio nella pagina del tutorial sia la fotografia sia la fonte di testo che utilizzerò allora incominciamo subito col creare una composizione di 10 secondi quindi composition new composition la chiamo esercizio 4 finale il preset il solito che usiamo noi hdtv 1080 25 e la durata come già impostata 10 secondi benissimo prendo la fotografia che mi serve la giungo qua e come quasi sempre succede con le fotografie che utilizziamo facciamo una lenta animazione sulla scala quindi clicco il tasto s evidenzio la proprietà scala al tempo zero fisso la grandezza della foto così com'è e al termine della composizione aumento di un po' la scala quindi abbiamo la solita animazione sulla scala quindi facciamo una rapida preview per vedere se la velocità di ingrandimento ci va bene direi che va benissimo ora creiamo un rettangolo colorato che andrà a coprire la fotografia lo creiamo partendo da un solido quindi vado nel menu layer new solid lo chiamo appunto rettangolo colorato la dimensione la stessa della composizione make comp size per il colore invece scegliamo un azzurro chiaro poco saturo tipo così ok benissimo questo rettangolo partirà fuori dalla composizione a destra e coprirà interamente la fotografia però voglio che questa animazione cominci non al tempo zero ma un secondo quindi la prima cosa che faccio è trimmare il primo secondo del rettangolo perché tanto non mi serve poi voglio che l'animazione del rettangolo duri circa un secondo e mezzo quindi qui parte l'animazione un secondo e mezzo dopo circa a due secondi e mezzo il rettangolo colorato si deve trovare lì dove sta quindi clicco il tasto p per la posizione accendo l'orologio di position e quindi fisso la sua posizione finale benissimo torno dove comincia il rettangolo colorato e lo sposto fuori a destra qua quando si ferma voglio che il keyframe finale sia ammorbidito quindi lo seleziono e con la palette controllo easy is che abbiamo già usato più volte anche nell'esercizio precedente assegno un valore abbastanza alto per rendere particolarmente morbido l'arrivo quindi intorno ai 80 90 faccio una preview per vedere come l'animazione direi che va benissimo a questo punto ho bisogno sopra il rettangolo azzurro di una copia della fotografia in bianco e nero quindi innanzitutto la seleziono la foto e la duplico ctrl d quindi ho due copie della foto la seconda copia la metto sopra il rettangolo e faccio in modo che diventi bianco e nero quindi vado nel menu degli effetti nella sezione color correction prendo l'effetto tint lo applico e come vedete appena applicato l'effetto tint toglie i colori e quindi siamo già a posto così benissimo adesso voglio ritagliare questa fotografia con la scritta motion graphics quindi innanzitutto con lo strumento testo creo la scritta motion graphics come vedete io sto usando una font vasser serif che probabilmente voi non avete e quindi se anche voi volete usare questa font come vi ho anticipato prima troverete il link nella pagina di questo video quindi dicevo uso questa font con lo stile più largo che ha che è fat poi faccio in modo che ci sia un po più di distanza fra le lettere quindi aumento questo parametro e magari aumento anche un po la larghezza del carattere tipo così a questo punto siccome devo ingrandire tantissimo il testo e devo allinearlo a sinistra la prima cosa che faccio mettere l'anchor point sul lato sinistro e quindi con la palette move anchor point clicco qui sulla parte sinistra in modo tale che l'anchor point si metta qui sul lato sinistro a questo punto clicco s evidenzia la scala della scritta e aumento tantissimo la scala in modo tale che la prima lettera copra bene la fotografia a questo punto userò il testo come maschera per ritagliare la fotografia in bianco e nero che sta sotto allora vengo nella timeline evidenzio la foto vengo in corrispondenza della colonna track matte se voi non vedete la colonna track matte nell'angolo in basso a sinistra nella timeline attivate il secondo pulsante a quel punto in corrispondenza della fotografia in bianco e nero nel menu dove c'è scritto non attivate la voce alfa matte motion graphics a questo punto la fotografia viene ritagliata dal livello di testo che le sta sopra bene adesso questo testo noi lo animeremo in modo tale che entri da fuori e si vada a piazzare in questa posizione e poi il testo dopo l'animazione sulla posizione avrà un animazione sulla scala in modo tale che si rimpicciolirà bene intanto cominciamo con l'animazione sulla posizione facciamo in modo che l'animazione del testo sia uguale all'animazione del rettangolo per cominciare poi ritarderemo il tutto quindi ci allineiamo con il keyframe finale dell'animazione sul rettangolo quindi questo keyframe lo seleziono tasto destro go to keyframe time in questo momento voglio che il testo si trovi qui dove l'ho piazzato benissimo quindi clicco il tasto p di position e accendo l'orologio per la scritta motion graphics per fissare la posizione finale poi mi allineo con il primo keyframe del rettangolo colorato go to keyframe time in questo momento voglio che la scritta si trovi fuori a destra benissimo poi faccio in modo che il keyframe finale sia morbido come il keyframe finale del rettangolo quindi magari li seleziono tutte e due e riassegno con la palette controllo is is un valore uguale per tutte e due anche per la fotografia come ho fatto per il rettangolo trimmo i primi frame fino a quando non comincia l'animazione e per finire facciamo in modo che la scritta entri un po più tardi rispetto al rettangolo quindi prendo la barra del livello testo e la sposto qualche frame più avanti proviamo così e facciamo una preview bene forse il testo può aspettare ancora un altro frame proviamo a vedere così direi che va benissimo a questo punto finita l'animazione di ingresso del testo dobbiamo fare in modo che il testo si rimpicciolisca e vada a posizionarsi più o meno in questa zona qui quindi evidenzio anche la proprietà scala quindi shift s in modo che position rimane e scala si aggiunge accendo l'orologio della scala e più o meno un secondo dopo quindi sono a circa due secondi e mezzo avanzo più o meno tre e mezzo in questo momento la scala sia molto più ridotta quindi diminuiamo di tanto più o meno così e modifichiamo anche la posizione quindi un po più in alto è un po più verso il centro io direi più o meno qua come potete vedere le tre posizioni del testo qui fuori qui a sinistra e poi di nuovo lì in alto sono collegate da un percorso curvilineo soprattutto dalla seconda posizione la terza posizione c'è una curva se io faccio una preview ve ne accorgerete avete visto che il testo curva bene io devo fare in modo che attraverso questo keyframe non passi una curva e per farlo faccio così appunto lo seleziono prendo lo strumento pennino e con il tasto alt premuto ci clicco sopra a questo punto dal punto non passa più una curva ma passano due linee rette ed è quello che avevo bisogno io se rifaccio la preview vedrò che dalla seconda posizione la terza ci va dritto adesso però dobbiamo anche modificare l'ammorbidimento dei keyframe soprattutto voglio che anche il keyframe della scala sia ammorbidito come quello della posizione quindi di nuovo li seleziono tutte e due e li ammorbidisco più o meno come prima circa 80 90 benissimo quindi quando partono accelerano molto lentamente mentre voglio che quando il testo si arresta abbia una decelerazione non troppo lenta quindi seleziono i due keyframe e con l'easy ease do un valore più basso di 33 in modo che arriverà particolarmente veloce quindi una cosa intorno ai 10 rivediamo l'animazione quindi come vedete il testo entra poi lentamente riparte ma quando arriva arriva molto velocemente benissimo questa è l'animazione del testo ma se noi andiamo a rivedere un attimo il filmato finale vediamo che il testo mentre si rimpicciolisce di nuovo torna nero e quindi non vedo più attraverso la fotografia e per fare questo non facciamo altro che duplicare questo livello di testo che momentaneamente viene usato come maschera per la foto e poi dopo accenderlo nel momento finale dell'animazione quindi seleziono il testo ctrl d quindi ho due volte il testo ma la seconda copia che sta sopra la riaccendo ok quindi è già del colore nero che va bene però voglio che diventi nera soltanto negli ultimi istanti dell'animazione sulla posizione la scala quindi mi metto più o meno metà strada dell'animazione del testo attivo la proprietà t di opacità e voglio che in questo momento l'opacità sia zero perché fino qui io il testo non lo devo vedere e accendo l'orologio poi mi allineo con i keyframe finali questi qua in questo momento invece voglio che il testo sia nero ben visibile prima di rivedere l'animazione trimo anche tutta la parte di questo livello che non mi serve e quindi lo trimo fino a quando non entra in azione facciamo adesso una preview quindi mentre si rimpicciolisce un po per volta non vedo più la foto ma vedo il nero benissimo a questo punto entrerà in scena un rettangolo nero che si allarga da sinistra verso destra quindi prendo lo strumento rettangolo faccio in modo che nessun livello sia selezionato quindi clicco in un punto vuoto della timeline per disattivare tutti i livelli vengo qui nel monitor e disegno un rettangolo più o meno da qua fino a qua benissimo adesso per un istante abbasso l'opacità in modo che vedo dove si trova il testo sotto quindi clicco il tasto t abbasso un attimo l'opacità prendo lo strumento selezione a questo punto metto anche l'anchor point al centro del rettangolo cliccando qui su move anchor point e per allineare precisamente il rettangolo con il testo che sta sotto lo seleziono e mentre lo muovo tengo premuto il tasto control e subito vengo calamitato al centro del primo oggetto che trovo al di sotto in questo caso il testo a questo punto riporto l'opacità al 100% e anche sposto l'anchor point sul lato sinistro perché dovrò allargare la scala del rettangolo da sinistra verso destra quindi con la palette move anchor point clicco sul lato sinistro in modo tale da mettere l'anchor point qua attivo la proprietà scala s e voglio che l'animazione cominci quando è terminata l'animazione sulla scritta quindi mi allineo col cursore con i keyframe finali dell'animazione sul testo trimmo tutti i frame iniziali del rettangolo fino a qua e voglio che l'animazione duri più o meno un secondo quindi qui sono più o meno a tre e mezzo avanzo fino circa quattro e mezzo ecco in questo momento voglio che la scala sia così com'è quindi accendo l'orologio ritorno al frame iniziale del rettangolo e a zero soltanto la scala x quindi spengo la catena fianco ai valori della scala e a zero il primo valore benissimo anche in questo caso voglio che abbia un easy is molto morbido all'inizio quindi seleziono il primo keyframe e gli do un easy is di anche qui 70 80 mentre il keyframe finale lo voglio molto basso proviamo a fare una preview forse l'animazione può essere anche un po più veloce vediamo se avvicino secondo keyframe se migliora sì perfetto benissimo a questo punto andiamo a rivedere un attimo il nostro video finale mentre il rettangolo si allarga in corrispondenza del rettangolo ci deve essere un'altra copia della scritta bianca quindi molto semplicemente duplicheremo un'altra volta la scritta nera quindi la seleziono control d la duplico il duplicato lo metto sopra e subito lo ricoloro di bianco quindi nella palette character clicco sul bianco però come vedete la scritta si vede tutta intera invece noi vogliamo che venga tagliata con la forma del rettangolo che si allarga da sinistra quindi di nuovo duplicheremo anche il rettangolo nero e la copia la utilizzeremo per mascherare la scritta bianca quindi innanzitutto rinomino questo shape layer rettangolo nero così è più chiaro rettangolo nero benissimo poi lo seleziono lo duplico control d il duplicato lo metto sopra la scritta bianca e questo rettangolo invece lo rinomino come maschera motion graphics perché deve servire da maschera per il livello di scritta che sta sotto adesso seleziono la scritta bianca e in corrispondenza della colonna track matte attivo la voce alfa matte e quindi la scritta bianca la vedo solo lì dove si trova la coppia del rettangolo nero rivediamo questa parte di animazione come vedete mentre il rettangolo nero si apre la parte bianca compare al suo interno bene ora la seconda scritta la seconda scritta deve comparire all'interno di un rettangolo bianco il rettangolo bianco deve allargarsi dall'alto verso il basso quindi innanzitutto procuriamoci rapidamente il rettangolo bianco quindi incominciamo col disattivare tutti i livelli della timeline prendiamo un'altra volta il rettangolo e questa volta disegniamo da qua a qua però un po più stretto benissimo nella palette dei colori cambiamo colore da nero a bianco innanzitutto spostiamo l'anchor point nella parte in alto al centro quindi usiamo la palette move anchor point e clicchiamo qui benissimo innanzitutto rinominiamo questo shape layer lo seleziono e lo rinomino rettangolo bianco poi clicco il tasto s attivo la proprietà scala e voglio che l'animazione cominci nel momento in cui è terminata l'animazione del rettangolo nero quindi mi allineo col keyframe finale del rettangolo nero in questo momento entra in scena il rettangolo bianco quindi trimmo tutta la parte iniziale fino a qua bene allora voglio che l'animazione cominci qui e finisca più o meno in questo momento quindi in questo momento fisso la scala finale così com'è poi prendo il cursore torno all'inizio del rettangolo bianco e qui invece voglio che solo la scala verticale sia zero quindi spengo la catenella a fianco i valori e a zero la scala verticale in questo caso voglio che entrambi i keyframe abbiano lo stesso easy is quindi di selezione entrambi e gli assegno un valore intorno ai 50 60 vediamo se l'animazione va più o meno bene va bene così e per ultimo manca il testo nero che dovrà essere mascherato a sua volta da una copia del rettangolo bianco allora prendiamo lo strumento testo scriviamo after effects tutorials e vogliamo che la scritta sia nera quindi nella palette character assegno il valore nero e come stile usiamo uno stile un po più sottile di quello di prima quindi magari un bold facciamo in modo anche che sia un po più concentrato un po più piccolo aggiustiamo un po mettiamo l'anchor point al centro e per allineare il testo con il rettangolo basta che io lo sposto con il tasto control attivo e quando mi avvicino al centro del rettangolo bianco vengo calamitato lì benissimo a questo punto non manca altro che l'animazione del testo che avverrà sulla posizione quindi seleziono il testo clicco il tasto p e voglio che quando il rettangolo ha terminato la sua animazione anche la scritta nera si trovi nella posizione che ha attualmente quindi mi allineo con i keyframe finali dell'animazione del rettangolo in questo momento accendo l'orologio di position della scritta mi allineo poi col primo keyframe del rettangolo e in questo momento voglio che la scritta sia un po più in basso più o meno facciamo qua bene subito trimmo i frame iniziali della scritta fino a quando non entra in scena quindi fino al primo keyframe e il primo keyframe lo lascio così normale mentre il secondo lo ammorbidisco con la palette controllo is easy gli assegno un valore particolarmente alto benissimo adesso devo fare in modo che la scritta sia mascherata da una copia del rettangolo bianco quindi come abbiamo fatto prima per la scritta motion graphics duplichiamo il rettangolo bianco lo seleziono ctrl d la copia la metto sopra la rinomino così per chiarezza maschera after effects tutorials per far capire a cosa serve e alla scritta after effects tutorial attivo la voce alpha matte in modo tale che utilizza il rettangolo bianco che sta sopra come maschera infatti vedete che la scritta si vede lì solo dove c'è il rettangolo bianco ora riguardiamo anche questa ultima animazione se va bene sì soltanto vorrei che l'animazione sulla scritta nera finisse più tardi rispetto al rettangolo bianco quindi prendo la scritta sposto un po più avanti e magari faccio animazione anche più lenta di quella del rettangolo spostando solo il keyframe finale vediamo se così meglio sì così decisamente meglio bene proviamo a riguardare il tutto bene direi che è perfetto la foto prima è ritagliata dalla scritta e poi le scritte a loro volta sono ritagliate dai rettangoli neri e bianchi e il tutto è stato ottenuto attraverso le maschere di livello benissimo quindi l'esercizio per oggi è terminato qui e ci vediamo alla prossima ciao ciao